Buongiorno, benvenuti a questa segna stampa di oggi. Che giorno è oggi? È il 19 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Insomma, il tema ovviamente che tutti quanti i giornali hanno preso di petto è l'intervento fatto ieri da Draghi alla manifestazione dei Cellini, di comunione e liberazione. Tutti contenti, Cellini che si sono portati Draghi, tutti i giornali che finalmente hanno trovato qualcosa da dire in questa giornata agostana in cui veramente c'è poco da dire. Insomma, eravamo alla ricerca di qualcuno che ci dicesse qualcosa di diverso rispetto al solido e ha detto tre cose, come bene ha sintetizzato secondo me Marcello Zacche oggi sul giornale perché in realtà ha fatto un pezzo in cui poi c'è un po' tutto e anche se, voglio dire, non è uno dei grandi pezzi di opinioni che forse vi sareste aspettati però c'è esattamente tutto quello che è successo. Qua ci sono due pezzi, uno del giornale in cui vi fa una sintesi di quello che ha detto Draghi e l'altro è la stampa che invece vi prende dei pezzi di Draghi e ve li butta là con il suo discorso completo. Basta sussidi! Beh, insomma, anche un bambino capisce che questa è una cosa rivolta al governo che dice ragazzi, avete esagerato a fare sussidi a tutti quanti anche se capiamo l'emergenza. Due, esiste un debito buono e un debito cattivo. Il debito buono è quello che è fatto per lo sviluppo del paese e il debito cattivo invece è quello che è fatto appunto per fare i redditi di cittadinanza. Dico io, non dice lui. Terza cosa che è legata alle prime due è l'importanza dei giovani che sono il nostro futuro e lo fa ovviamente una manifestazione dove ci sono molti giovani. Per Repubblica Draghi quindi sorprende il governo. Ciao Milco, ciao Federica, vedo che vi siete collegati oggi. Ora, ciao Rosalba, sorprende il governo. E per Zacché invece, ripeto, non è un pezzo di opinione quello di Zacché, ma secondo me più di analisi, dice guardate che Draghi poi dice un'altra cosa e cioè che probabilmente la cosa più importante che è avvenuta è il debito comunitario, cioè che tutta l'Europa si indebita per aiutare i paesi più colpiti dal coronavirus e la necessità di fare un ministero del tesoro europeo, al quale evidentemente, anche se non si candida, insomma è l'aspirazione dell'uomo che è stato più importante per sette anni, controllore della moneta e il grandissimo inventore del whatever it takes. Questo è il quadro di Draghi, un quadro che però non è piaciuto a Travaglio. E il quadro che non è piaciuto a Travaglio, qua ci sono due, diciamo forse l'unica rottura rispetto agli altri, è il pezzo di Travaglio del manifesto e di una parte dei sindacati, ma non è piaciuto a Travaglio e anche della Meloni, destra e sinistra si uniscono perché la Meloni è preoccupata dell'eccessivo europeismo di Draghi. Beh, insomma, cosa non è piaciuto a Travaglio? Vi giuro che lo leggo, l'uomo che anche oggi è riuscito a intervistare Conte, che non dice assolutamente nulla, cioè avete presente Conte? Conte è uno che se voi riuscite a interpretare quello che dice, cioè le supercazzole di Conte, sono comprensibili e apprezzabili soltanto da quelli del fatto, perché sono talmente obnubilati dalla realtà che quello che dice Conte è come la Dea Calì, no? Sono la inestasi, in deliquio. Ebbene, questi in deliquio per il nulla detto da Conte, poi sarà più o meno bravo ma non dice nulla, beh, che cosa dicono di Draghi? Che dice, troppi sussidi, debito buono, debito cattivo, bisogna dare peso ai giovani, dice, non ha detto nulla ma lo ha detto benissimo, che è una frase ovviamente che non è sua ma è di grandi giornalisti del passato, non ha detto nulla ma l'ha detto benissimo, questa è la sintesi che fa Travaglio del discorso ieri di Draghi. Ovviamente la sintesi non è questa, ha detto molto nei toni ovviamente felpati della politica, però io che sono molto critico nei confronti di queste cose che sembrano soltanto delle specie dei riti, beh, insomma, ieri Draghi di cose ne ha dette. Però in questo una ragione c'è e arriviamo al secondo tema di giornata, cioè il grande caos della scuola. Io vi voglio fare una domanda perché qui noi ci siamo abituati veramente alla merda, scusate il gergo. Perché ci siamo abituati ormai a ragionare? Perché il punto fondamentale è che, come in tutti i sistemi di adeguamento della propria testa alle mode, noi siamo qui che diciamo i banchi di scuola non arriveranno, eccetera. È vero, Der Commissari ha fatto il peggior bando che si potesse immaginare. Prendi Der Commissari, lo metti con l'azzolina e più che una discoteca c'è una specie di circo. In questo circo questi dovrebbero prendere 2,4 milioni di banchi. Mi sembra di capire che dovrebbero spendere 3 miliardi di euro nostri per i banchi, che non arriveranno mai. Oggi qualcuno lo dice, arriveranno tra ottobre e dicembre, mi sembrano i produttori lo dicono la verità. Comunque è chiaro che non arriveranno tutti per il 14 settembre. I banchi servono per i distanziamenti. I distanziamenti a scuola per dei bambini che entrano a scuola tutti ammassati, ma che si distanziano nell'aula e che immaginiamo che nell'aula non potranno vedersi a meno di un metro. È come aprire le discoteche, come ha fatto questo governo, e poi chiuderle perché le discoteche dicono che le persone ballano. Qui noi mettiamo i banchi separati e poi dopo ci accorgeremo che saranno del tutto inutili. Ma il punto non è questo. Non è l'appalto fatto male, l'impossibilità di avere i banchi a settembre, come dicono i giornali. Non capisco per quale motivo al mondo qualcuno oggi non riempia di contenuti le frasi fatte. Dobbiamo aiutare i giovani. Secondo voi, metteteci proprio la vostra testa, con 3 miliardi noi aiutiamo i giovani distanziando i banchi o prendendo 3 miliardi per esempio e facendo dei laboratori straordinari nelle scuole di Reggio Calabria, mettendo dei pc incredibili nella provincia di Roma, apprendendo dei tablet e dandoli alle persone che oggi non possono fare scuola a distanza con i tablet. Cioè noi mettiamo i soldi nei banchi, che è la roba da Pinocchio, e pensiamo che questo è il modo di aiutare i giovani. Così aiutiamo soltanto il CTS. Cioè l'investimento nel futuro non sono i banchi. Cioè io per quello dico, oddio, oggi mi sono svegliato e ho pensato ma ti rendi conto che siamo allora ancora a contestare che non arriveranno i banchi? Ma il punto è che dovremmo contestare alla base, anche se arrivassero a settembre. Noi siamo vittime di questa specie di follia collettiva per cui pensiamo che per i giovani è utile investire 3 miliardi nei banchi. Cioè siamo dei tossicodipendenti. Questo succede ma attraverso cliniche di riabilitazione ci si può curare. Nel frattempo non è che le cose vadano molto bene poi nell'organizzazione degli aeroporti e a Malpensa dice il fatto c'è l'ennesimo scandalo della Lombardia. Con un piccolo problema che la Lombardia permette di fare, dice Gallera, dei tamponi direttamente a casa con richieste. Io non so cosa ci sia di vero in questo, so che la Lombardia sui tamponi non si è comportata come ci saremmo attesi perché probabilmente ne avevano pochi, io non so quello che cavolo è successo. Detto questo, che un governo che fa prima le ordinanze e poi si accorge che non funzionano è il senso di questo governo, che è il senso anche dei nostri giornali. Va bene, oggi vi leggo un altro pezzo fantastico sulla Sardegna. Mo' mi sono fissato sulla Sardegna perché così quanto ero critico nei confronti del governatore che faceva lo sceriffone, beh oggi però ragazzi non ce la possiamo prendere con Solinas. Solinas è il diventato, Solinas e le discoteche di Porto Rotondo eccetera sono diventate il nuovo oggetto dell'attenzione dei giornali che rosicano perché non vanno a ballare, non vanno a Costa Svelata, stanno in questi pezzi, in questi palazzi. Ma che palazzi, stanno a casa loro a fare lo smart working. Vabbè comunque sia, oggi leggo il, ve la leggo, Baraonda e Sbarchi di Massa. Anzi il titolo è Agosto Folle della Sardegna. Oggi scopro che c'è stato un Agosto Folle della Sardegna perché c'è una Baraonda di Sbarchi di Massa e poi ci sono i rampolli delle famiglie, i rampolli. Io già, se io avessi un giornale, anzi lo dico ai miei amici che scrivono sul sito nicolaporro.it vi prego, la parola rampolli non usatela mai perché io quanto sento i rampolli mi prende il sangue al cervello. Ma che cazzo vuol dire rampolli? Che poi sono quattro figli di persone che magari sono stati tre volte in televisione. I rampolli! Ma chi so, ma non ci stanno più le case reali. I rampolli che sarebbero poi figli dell'avvocato che tornano a casa. I rampolli delle case, delle famiglie romane. Poi l'altra questione è questa Baraonda degli Sbarchi di Massa. Io sono d'accordo con quelli della stampa. Non dobbiamo fare questi Sbarchi di Massa in Sardegna. Dobbiamo prendere quattro, cinque yacht, arrivare lì a Cala di Volpe, ma ne raffanculo tutti questi che vogliono venire quei traghetti. Quei traghetti! In Sardegna! Ma sono scemi, no? Ma basta con questi Sbarchi di Massa. Ma bisogna avere cinque, sei ville a Ramazzino. Possiamo andare al Pitrizza. Ma io sono d'accordissimo. Basta queste discoteche piene di questi caffoni in Sardegna. Fantastico! Basta gli Sbarchi di Massa. Beh, è stupendo. Poi, in realtà, noi che cosa vogliamo? Noi vogliamo che non ci siano gli Sbarchi di Massa, ma che i ricconi che stanno in Sardegna, che io adoro, figuratevi voi, anzi, se arrivano col loro aereetto, sono anche più contento, gli eroni utilizzino quelli che dovrebbero fare gli Sbarchi di Massa al massimo per farsi postare, portare con Amazon un pacco a casa, oppure farsi portare un delivery, no? Il delivery, un delivery di caviale da qualcuno di questi cazzoni che fanno gli Sbarchi di Massa. Io, cioè, ma perché? Ma quando devono arrivare in Sardegna le persone, se non ad agosto? E cosa c'è di male se nel posto più bello del mondo arriva gente? Poi si pagheranno il loro albergo. Non mi sembra che stanno nelle spiagge a far... Vabbè, comunque, Françoise, io spero che ci siano sbarchi di massa anche nella tua pizzeria a Cagliari, dove si mangia molto meglio che in tanti altri posti. Nel frattempo sono andato a vedere che cosa è successo in questa baraonda degli sbarchi di massa e in questo agosto folle della Sardegna. Beh, tu pensi che la Sardegna sarà piena di Covid? Oggi prendo il drammatico bollettino che pubblica sempre il Corriere della Sera, beh, salgono i contagi. 403 in un paese da 60 milioni di abitanti. Quanti sono in ospedale? 843. Quanti in terapia intensiva? 58. Sostanzialmente numeri assolutamente gestibili. Calcolate che terapia intensiva, ci ricorda Toti, nella sola Liguria, sola Liguria sono 200, in Italia sono 58. Bene, bene, cosa succede? Andiamo a vedere cosa è successo in Sardegna, in questi giorni di sbarchi di massa, in questi giorni di folle Sardegna. Sono 12 casi, 12 casi, 12 casi in più in Sardegna e 122 positivi, 12 casi in più. Allora dici, beh, insomma, forse nel resto d'Italia non c'è nulla, a parte che 12 casi sono gestibili anche da mia zia. Comunque, sapete quanti sono in Emilia-Romagna che nessuno tocca per carità? Il doppio. Allora, noi dobbiamo pensare che questa agosto folle della Sardegna, dove ovviamente la gente ci va, quando cazzo ci va? A marzo? Ci va ad agosto, ci va a luglio. Non con sbarchi di massa, ma con gente che capisce che è il posto più bello nel mondo. Bene, c'è la metà dei positivi di quanti ce ne siano in Emilia-Romagna. Allora, c'è qualcosa che ci stiamo raccontando male, e allora i gestori di Porto Rotorno sono dei delinquenti, e allora non è vero che guadagnano 4 miliardi, e allora, come ha scritto oggi Cipriani, che ha fatto un'intervista oggi al Corriere Sera, questa roba del ricorso al TAR che fanno le discoteche, oggi sapremo che cosa succede, servirà a nulla. Ma c'è ragione Cipriani, perché mo che con l'Italia fai il ricorso, il controricorso, quelli di rispondere, eccetera, cioè, no? Hai chiuso le discoteche, te la sei bella che giocata, poi ti dicono, ah, vabbè, tanto tu fai il nero, che te ne frega a te? Ecco, bravi, continuiamo così, poi dopo i soldi a Roma, vediamo come arrivano, quali entrate arrivano, se non siamo tutti bravi a fare i fenomeni con i soldi degli altri. Nel frattempo, vi segnalo un pezzo divertentissimo, copiato dall'Economist, sulla tratta delle parrucche, e il paese al mondo che vuole più parrucche è la Nigeria, che dite che c'entra? C'entra un cazzo, però a me mi è divertito, perché in questa estate, così in cui parliamo di tutto, copiare l'Economist, una cosa divertente come questa, è piuttosto divertente. L'ho trovata sulla prima pagina della Repubblica, ovviamente pagine, pagine sulla morte di Romiti, il pezzo più bello, decisamente più bello, è quello tratto da un libro che io vi consiglio, l'ho recensito già anni fa, una storia operaia di Riccardo Ruggeri, che parte dalla catena di montaggio e arriva a diventare amministratore delegato di Case New Holland, racconta di quando Romiti lo scelse e parte in questa maniera fulminante. Romiti mi incontra e mi dice che mi offre di fare il capo di questa roba qua e non sapeva che io sapevo, dice Riccardo Ruggeri, che avevano già rifiutato prima di me altre tre persone, ma io faccio finta di nulla e racconta insomma il suo rapporto con Romiti e la ristrutturazione di quella società e il giudizio secondo me più sereno, più obiettivo di una persona che davvero ci ha lavorato è che è una persona libera come Ruggeri, che non ha nessun, come possiamo dire, complesso né del parvenu né dell'arrivato, che è una cosa fondamentale. Ma comunque sia, ve lo leggete sul giornale, anzi secondo me dovete oltre a leggerlo sul giornale compratevi quel libro che è straordinario e bello anche forte perché racconta il punto di vista politico sempre sul giornale, che non è solo l'unico a raccontarlo, cioè di come lui sconfisse i sindacati e Moncalvo, terzo elemento di questa giornata di inutili predicozzi, quelli che fa il Corriere sul Romiti e direi perché troppo ancora legati al romitismo e invece quelli un po' più maveri, che sono quelli che oggi leggete sul giornale, Forte, Ruggeri e e Moncalvo che racconta l'infiltrato nella casa Agnelli da parte di Mediobanca. Wall Street, ve lo segnalo perché l'apertura del Wall Street Journal di oggi ritorna, e anche del Sole 24 ore, ritorna ai massimi storici, vuoi dire, non è possibile, sì, ai massimi storici del 19 febbraio del 2020, pre-Covid, il massimo, qualcuno dice, sì, il figlio di Grillo è un rampollo, quello insomma, per cui c'è un processo di stupro, presunto stupro, in Sardegna. Wall Street Journal dice che sono sei mesi, recuperato in sei mesi tutte le perdite, ma poi la cosa più divertente che dice è che non c'è stata mai nella storia della borsa un recupero del mercato azionario così veloce come questo attuale. Spero che sia vero, caro Elio, Ninfa, ciao, ciao Alessandra, anche te, vi segnalo come sempre, penso che si veda oggi in sovraimpressione il sito mio, ufficiale, nicolaporro.it, molti di voi conoscono la zuppa e non sanno che c'è il sito dove c'è di tutto di più, dove dovete andare subito dopo aver visto la zuppa per vedere gli articoli della giornata. Ce n'è uno ora di Ocone che vi consiglio davvero. Ciao.